Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, sono FrancoGames92 e oggi siamo in un altro nuovo video, sempre un gameplay di Naruto Shippuder Ultimate Ninja 3, ragazzi il nome non li imponerò mai mettetemi in testa, questo è praticamente il filmato successivo e dopo l'avevo scomplito la polpa 9 code, qui c'è appunto c'è il minato contro Obito, ok scusate, vi ho spoleto un'altra cosa, vabbè ma niente, vediamo se riusciamo a concludere oggi questa parte della polpa 9 code, ma dove è figo il minato eh? allora ragazzi dovrei ricordare un attimino i tattocchi, io non mi ricordo non mi ricordo l'abbiamo in questo punto, non mi ricordo come chatevi anche loro invece è un'altra cosa che attraverò, d'onore che stessa in! ragazzi stessa, ma mi ricordo come è capta che riguardo Ma che cosa, scopio di utilizzazione, vediamo che è una capacità di potere. Ok, ragazzo, mamma, cosa to l'epa da giatte? Ok, ragazzo, mamma, cosa to l'epa da giatte? No, mi ricordo proprio come ci si... ci si ricarica il chakra, ho dimenticato completamente Ah, buonissimo! Ok, ragazzo, mamma, cosa tol'epa da giatte? Non vedeva mai! E' figlia di quelli! No, non è morto! Vedete che ci siamo a concludere la morta finale! Ah, l'ho piaciuto in un nulla! Oh, l'ho freddo! L'ho freddo! L'ho freddo ragazzi, l'ho freddo! Questa dovrebbe concludere con! Eh! Freddo! L'ho freddo! Questa è... La morte! L'ho freddo! Questa è la morte! Questa è la morte! Grazie! L'ho freddo! Oh, l'ho freddo! Questa storia mi sa tanto che durerà un bel po', perché, insomma, mi ricordo che comunque c'era tutta la parte dove Minato andava poi a salvare, diciamo, io che non mi ricordo, ah, cuscina. E poi comunque c'è tutta la parte in un'altra parte dove poi c'era il demone, che si metteva l'anima di Minato e di cuscina, poi Minato metteva l'anima di, diciamo, che c'era da volpe nove code su Naruto, insomma. Non penso quindi che riuscivano a finirlo qui. Quindi, signori, direi di fare una bella cosa. Questo episodio finisce qui. Noi ci vediamo nel prossimo episodio, sperando che sia l'ultimo per questo capitolo di Naruto, anche non della serie ovviamente. Quindi vi ricordo sempre di iscrivervi alla mia pagina di Facebook di FrancoGames92, iscrivervi al canale, mettere mi piace al video, perché comunque per noi youtuber i mi piace sono molto importanti. Per sapere se comunque i video vi piace, quindi manderà avanti la serie, ma anche se non mi piace comunque ci è di aiuto. Detto ciò vi saluto ragazzi, ci vediamo col prossimo video. Ciao a tutti!